La dea bendata bacia Palermo, realizzando il sogno che almeno una volta tutti abbiamo fatto, vincere una somma di denaro che possa cambiare la vita. Un tagliando da 10 euro, una monetina per scoprire i numeri e la sorpresa di ritrovarsi milionari. È accaduta ad una signora di 60 anni che si è giudicata una vincita da un milione di euro, il premio massimo messo in palio dal grattevinci mega miliardario. Il fortunato biglietto è stato acquistato in una tabaccheria di Viogenio Lemiro, nel quartiere Zisa di Palermo. La vincita risale al 3 ottobre, ma è stata ufficializzata soltanto oggi. È venuta con il biglietto già grattato, non so dove l'ha grattato, insomma mi ha detto di potermi parlare in privato, che aveva fatto una vincita importante e mi ha dato il biglietto. Tremava la signora, così come mi sono messa a tremare io quando ho avuto quel biglietto in mano. Top secret è l'identità della fortunata neomilionaria. Alcuni sostengono che sia un'impiegata, ma si tratta soltanto di un'indiscrezione non confermata. Solo di vista, poi non so dove abita, dove non abita, non ne ho idea. Io non so neanche veramente se lavoro in realtà, non so come fanno a dire che è un'impiegata. L'età ci siamo, 55-60 anni, ma se lavoro in pensione non lo so. La donna è comunque cliente abituale del tabacchino, che non è difficile ipotizzare, diventerà nelle prossime ore meta di chi spera che la fortuna possa affezionarsi a determinati luoghi. Molto fortunata siamo stati questa volta, non era mai successo. E' stato emozionante anche per me, avrei preferito vincerlo io, ma pazienza.